Credere o non credere, da sempre l'opinione è spaccata sul tema paranormale, da sempre nel mondo c'è gente che si proclama leggente, mago o profeta religioso, quello che forse accomuna e in un certo senso lega queste figure e il mistero della fede cristiana, in quanto devi credere senza vedere. Da qui insorgono le più grandi figure del mondo del mistero, i signori dell'Occulto, Ed e Loren Warren. Sicuramente avrai avuto modo di vedere i seguenti film, La casa delle anime perdute, Il messaggero, L'evocazione, Amityville o Annabelle. Bene, in questi film Ed e Loren Warren erano presenti e quando dicono basati su una storia vera, loro sono la storia vera. Ed e Loren Warren sono due demonologi e ricercatori del paranormale statunitensi. Insieme, nel 1952, hanno fondato la New England Society for Psyche Research, è un museo dell'Occulto. I coniugi Warren afferma di aver indagato su oltre 10.000 casi nel corso della loro carriera, quelli più famosi sono però il caso Einfield, sul quale è stato basato il film L'evocazione, l'assassino indemoniato, l'opomannare, Hannabelle, anch'esso legato ai film, Famiglia Smurl, Amityville e Famiglia Berl. Come detto in precedenza, fu fondata nel 1952 ed è il gruppo più antico di demonologi e cacciatori di fantasma. Sando a quanto dichiarato dai Warren, mi partecipano una gran varietà di persone, inclusi medici, ricercatori, funzionari di polizia, infermieri, studenti universitari e membri del clero. È un luogo costudito con la massima sicurezza, dove conservati oggetti legati alle loro indagini, come ad esempio la bambolanna, una testa bonsata, lo specchio per evocare i spiriti o pare di bambini, utilizzate per messe nere. Seppur questi oggetti si dice che siano stati purificati, vengono ancora considerati oggetti che tengono aperto il nostro mondo con quello delle tenebre. Toccare uno di questi oggetti sarebbe l'opposto di toccare qualcosa di santo o benedetto. Seppur questo museo, sicuramente unico nel suo genere, attira migliaia di visitatori, le immagini che abbiamo a disposizione sono pochissime. Ad ogni modo, questo museo si trova nel seminterrato di casa loro, a Moreau, nel Connecticut. Ed Warren muori nel 2006, ciò nonostante Lorraine, continua ancora ad intagare e ha dichiarato il museo. È stato Ed stesso a farmi sapere che lui voleva che io continuasse a fare questo. Lo sto facendo per onorare il mio marito. Ad oggi, oltre che intagare, continuo a gestire il museo con l'aiuto del genero, Doni Spero. Ad oggi, oltre che intagare, continuo a gestire il museo con l'aiuto del genero, e poi, oltre che intagare, continuo a gestire il museo con l'aiuto del genero.